Sì, c'è un dato che ci ha colpito molto nella sola Valle d'Aosta, è stato stimato che ogni anno quanto ghiaccio si perde? Il trend attuale è circa di 2 km quadrati di superficie di ghiacciai ogni anno. E che cosa significa questo? Diamo un metro di paragone che tutti possano capire. Si parlava di, per tradurlo in qualcosa di tangibile, circa 250 campi da calcio ogni anno. 250 campi da calcio completamente ricopati a ghiaccio nella sola Valle d'Aosta ogni anno. Grazie!